Il tempo conversando, con il numero 1 Martina Gionda, con il numero 3 Armin Pesopoli, con il numero 4 Ergenia Baragna, con il numero 32 Giulia Agosti, con il numero 9 Stefania Chiappa, con il numero 10 Silvia Delfini, con il numero 11 Giulia Laufi, con il numero 12 Gira Delfini, con il numero 25 Giada Abatto, con il numero 17 Giorgia Di Piedi, con il numero 19 Luzini Ganga, con il numero 6 Gianca Stefani, allenatrice Coneni. Grazie 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 a tutti 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 Grazie a tutti